Attesa per la nuova udienza del processo a carico di Gianni De Vivo, il 39enne Campobassano accusato dell'omicidio volontario e premeditato di Cristiano Micatrotta, 38enne anche lui del capologo molisano che ha perso la vita la notte della vigilia di Natale del 2021 in via Gian Battista Vico, in seguito a quella che è stata più volte definita una rissa con la presenza di altre due persone, una coltellata alla gola, stroncato improvvisamente la vita di un ragazzo giovane e pieno di sogni. Domani in aula davanti al collegio presieduto dal giudice Salvatore Casiello sfileranno testi cruciali per l'andamento del processo. Due marescialli, un brigadiere dell'arma dei carabinieri in servizio a Campobasso intervenuti quella notte sul posto o che si sono occupati di interrogatorie delle fasi successive in caserma, alcuni ufficiali del RIS che hanno analizzato la scena del crimine e i reperti e il medico legale che ha effettuato l'autopsia. L'obiettivo è aggiungere ulteriori tasselli per ricostruire con esattezza la dinamica di una tragedia scaturita da una cessione di un quantitativo di droga e da un presunto regolamento di conti. Nella scorsa audienza, un amico della vittima, ritenuto parte attiva nell'episodio di quella notte sanguinosa, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre l'altro ragazzo che era presente durante l'aggressione ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando anche perché si ritrovò sotto casa di De Vivo insieme alla vittima e all'altro ragazzo. Per i legali dei familiari di Micatrotta, Daloisio, Albino e Fiorda, non ci sono dubbi sulle responsabilità dell'imputato. Diversa la tesi degli avvocati Principe e Stellato, i legali di De Vivo, il coltello non è del nostro assistito, hanno sempre affermato, attesa anche per la decisione della Cassazione sulla scarcerazione dell'imputato.